La campagna elettorale può entrare nel vivo da oggi senza più se e senza ma. In provincia di Salerno 42 comuni rinnoveranno il consiglio comunale, tra questi anche il capoluogo che attende di conoscere chi avrà il compito di subentrare a Vincenzo De Luca dopo la parentesi del facente funzioni Enzo Napoli che è poi tra i dieci candidati sindaco. Napoli sarà appoggiato da ben sei liste, quattro quelle invece del candidato Roberto Celano, tre i simboli per Dante Santoro, due per Antonio Cammarota, Raffaele Adinolfi e Gianluigi Cassandra, una per Antonio Iannone, Giuseppe Amodio, Giampaolo Lambiase e Marco Falvella. Nessun candidato sindaco del gentil sesso su dieci, un record negativo per l'universo femminile salernitano. Salerno dunque non ha identità politiche rosa tali da poter presentare un candidato sindaco donna strano. Otto i candidati nella vicina battipaglia. A contendersi la fascia tricolore saranno Riccardo Maria Cerciosimo, Pietro Ciotti, Cecilia Francese, Vincenzo Inverso, Enrico Lanaro, Guglielmo Marchetta, Gerardo Motta e Ugo Tozzi. Resta fuori il Movimento 5 Stelle che non ha avuto l'attesa certificazione dal partito da Milano. Alla fine invece Marchetta ha presentato la lista con noi con Salvini. Tanti poi i piccoli comuni che rinnoveranno il consiglio, dove non ci saranno più soltanto di testa a testa di un tempo. Prendete Siano e Sant'Egidio del Monte Albino. In entrambi i comuni 5 candidati alla poltrona di sindaco. Assiano Giovanni D'Amore, Grazia Di Benedetto, Alfonso Leo, Giorgio Marchese e Serenella Tenore, sorella dell'attuale sindaco. Anna Pia Strianese, Nunzio Carpentieri, Luigi Nocera, Giovanni Nappi e Carmine Di Natale sono in gioco a Sant'Egidio. Bella lotta per davvero con politici navigati che scendono in campo e alcune novità che potrebbero incuriosire e far presa sull'elettorato. A Corbara invece il più classico dei testa a testa. L'attuale sindaco in carica, Pietro Pentangelo, dovrà vedersela contro l'ex primo cittadino Rino Pauciulo. Tre i candidati sindaco al comune di Fisciano, quello che ospita la cittadella universitaria e che è sempre più in espansione proprio per via della presenza dell'Ateneo. Antonio D'Andrea, Andrea Landi e Vincenzo Sessa si sfideranno per prendere il posto di amabile divenuto nell'intanto consigliere regionale. A Ravello l'uscente Paolo Villemer se la vedrà con Nicola Amato e Salvatore Di Martino. Infine a Contursi, dove l'assessore uscente della Giunta Lardo, Alfonso Forlenza, sfiderà Franco Rosa.